Un argomento serio, scuola, come secondo me dovrebbe essere affrontato un argomento importante, fondamentale, costitutivo per lo sviluppo di una nazione? E come invece lo si affronta, come vengono affrontati in genere i problemi anche in termini di riforme che dovrebbero guardare non soltanto al presente ma porre i mattoni per costruire un futuro. I problemi della scuola interessano personalmente un grande numero di persone, studenti, genitori, insegnanti, se ne discute molto, se ne parla dappertutto. Sembra che si sia abbastanza impotenti a risolvere quelli che sono i veri problemi della scuola, tanto che la scuola sembra essere appunto in una sorta di crisi perenne da cui non si riesce a venire fuori, all'interno della quale c'è un malessere generale, si lamentano gli insegnanti, si lamentano gli studenti, si lamentano i genitori, si lamentano sempre un po' tutti. E allora sappiamo quali sono in realtà le ragioni profonde di questo disagio. E forse stanno nel fatto che alla radice di questa crisi storica dell'istituzione e scuola, nelle società moderne economicamente avanzate, alla radice di questo disagio forse c'è una scarsa consapevolezza di quelli che sono i veri problemi della scuola, che non sono la riorganizzazione dei cicli scolastici, il modo in cui vengono fatti gli esami, la formazione dei insegnanti, i loro stipendi, l'autonomia didattica delle scuole, l'introduzione di un sistema di valutazione dei ragazzi oggettivo, l'incentivazione della produttività delle scuole, l'incentivazione allo studio per gli studenti capaci e meritevoli. Nel senso che anche quando, per assurdo, venissero risolti tutti questi problemi, ancora non si sarebbe fatto niente per portare la scuola fuori dalla crisi che sta attualmente attraversando. E lo stesso vale per i problemi più politici, come il finanziamento della scuola privata, o il fatto che il successo scolastico è ancora legato a livello socio-culturale della famiglia. Questi problemi, che ho elencato, sono già di per sé difficili da risolvere, pur essendo non quelli sostanziali, pur essendo dei problemi superficiali all'interno della questione più generale. Quindi figuriamoci cosa vuol dire affrontare i veri problemi della scuola, perché questi problemi veri della scuola richiedono dei cambiamenti, radicali, nei fondamenti stessi di una istituzione che è molto antica e pochissimo propensa al cambiamento. Inoltre i veri cambiamenti, che forse sarebbero necessari per risolvere i veri problemi della scuola, non toccano solo la scuola, ma anche la società e la cultura fuori dalla scuola, perché la scuola è una parte di un tutto molto più organico, insomma non si può astrarre la scuola dalla società. E società e cultura oggi cambiano molto velocemente, però questo cambiamento sfugge agli sforzi di pilotarlo, di governarlo. Insomma non siamo capaci di gestire questo cambiamento, di indirizzarlo come vorremmo. Terzo, perché i problemi veri della scuola non sono riconosciuti, non sono visti con chiarezza e per poter affrontare, lavorare e risolvere un problema bisogna prima poterlo guardare, analizzare e studiare bene nella sua totalità. Il metro per misurare la gravità della crisi della scuola è proprio il fatto che la scuola non è in grado di vedere e di riconoscere quali sono i suoi veri problemi. E quindi il primo passo per risolvere i veri problemi della scuola sarebbe quello di riconoscerli, analizzarli, capirne bene la natura. E allora, qual è il problema numero uno della scuola? Il problema numero uno della scuola è il cambiamento e per capire cosa si intende con questo la prima cosa da chiedersi è quali sono i compiti che la società assegna alla scuola. E fondamentalmente sono due. Il primo è quello di trasmettere sapere e cultura del passato alle nuove generazioni. Nelle società semplici non è necessaria una istituzione particolare, specifica per trasmettere il sapere, sono sufficienti i genitori, i maestri, gli artigiani, perché il sapere è abbastanza semplice, insomma, non sono le cose pratiche di tutti i giorni. Nelle società invece più complesse, la trasmissione del sapere e della cultura è affidata a un'apposita istituzione ed è la scuola. La nuova generazione eredita sapere e cultura dalle generazioni precedenti. Però avviene una modificazione che è dovuta a due cose. Prima cosa è che la discendenza è selettiva, insomma, non tutto viene ugualmente riprodotto, non tutti i modi di comportarsi o le idee o i prodotti tecnologici della generazione precedente vengono trasmessi alla generazione successiva, nel senso che molti sono obsoleti, non servono più alla generazione futura. L'altro fattore che produce modificazione sono i cambiamenti che ogni generazione applica, apporta a quello che viene trasmesso, in modo che ci sia evoluzione, non semplicemente conservazione estasi, non semplicemente il mantenimento dell'esistente. Nella trasmissione culturale, cambiamento è l'invenzione di nuove conoscenze, di nuovi modi di comportarsi, di nuovi prodotti del comportamento, per cui ogni generazione consegna alla generazione successiva una cultura simile, ma non identica, a quella che ha avuto in eredità dalla generazione precedente. Nella organizzazione della società, quindi, la scuola ha soprattutto il compito della discendenza culturale, cioè della trasmissione e conservazione del passato. Il compito della modificazione, cioè del cambiamento e della introduzione di novità nella società nella cultura, è affidato, per esempio, alla ricerca scientifica, artistica, organizzativa, alla creatività in ogni campo dell'attività umane, inclusa quindi anche l'attività di insegnare e di imparare. Ma la scuola ha anche un secondo compito, oltre a quello di trasmettere sapere e cultura. E il secondo compito è quello di preparare i giovani alle società in cui vivranno, in modo che essi, prima di tutto, siano in grado di capire la società dove vivono, quindi il loro presente, e poi di contribuire, di essere parte del cambiamento. Le società umane non sono tutte uguali, sono diverse a secondo del tempo, del luogo, e cambiano nel tempo. Perciò diverse società richiedono conoscenze, comportamenti e valori diversi nelle persone che devono vivere in queste società. Alla scuola quello che spetta è dare ai giovani le conoscenze, le abilità e anche i valori appropriati alla società in cui vivranno da adulti. Allora due sono i compiti fondamentali che sono assegnati dalla società alla scuola. Trasmettere il sapere, uno. Due, attrezzare i giovani alla società in cui vivranno da adulti. Allora si chiediamo che rapporto c'è tra i due compiti. Possono essere armonizzati insieme, in modo che la scuola li possa adempiere entrambi, senza incontrare problemi? Allora la prima cosa da considerare è una, è il tempo, la velocità o la lentezza del cambiamento. Se la società cambia lentamente, e quindi se la cultura cambia lentamente, la scuola può svolgere entrambi questi compiti in modo armonico, senza problemi. E questo è quello che è successo fino ad oggi, quando i cambiamenti avvenivano lentamente nel tempo. I valori che venivano trasmessi per apprendimento da una generazione all'altra, quando il cambiamento era lento, potevano essere trasmessi con aggiustamenti limitati che intervenivano nel frattempo. E nello stesso tempo la scuola era in grado di preparare i ragazzi a una società in cui sarebbero vissuti da adulti, perché la società dei ragazzi adulti, la futura società formata da quei ragazzi, era molto simile alla società che aveva caratterizzato le generazioni precedenti. E quindi la scuola era in grado di trasmettere la cultura del passato, sapendo che nel frattempo svolgeva anche il secondo compito, cioè riusciva a preparare i giovani a vivere nella società in cui erano destinati a vivere. Però, se il cambiamento sociale e culturale è molto rapido, le cose si complicano. Se diventa veramente veloce, questi due compiti della scuola entrano in contrasto con loro, non si armonizzano più. Cioè la scuola rimane in grado di trasmettere la cultura del passato, ma facendo questo finisce per non preparare più i giovani a vivere nella società in cui dovranno vivere da adulti. Cioè la società in cui i giovani vivranno da adulti sarà diversa dalla società di adesso e ancora di più da quella del passato, anche recente. Richiederà invece comportamenti, conoscenze e valori diversi da quelli della cultura del passato. Se diamo uno sguardo rapido alla storia complessiva delle società umane, vediamo che c'è stata una continua accelerazione del cambiamento. Andando molto indietro nel tempo, all'inizio della storia umana, scopriamo che il cambiamento culturale era estremamente lento e quello che veniva trasmesso da una generazione all'altra era praticamente identico. Ma poi il cambiamento ha cominciato a diventare più veloce. E sono diventati sempre più brevi i periodi di tempo necessario per vedere le cose cambiare. E l'accelerazione è continuata. E oggi questo cambiamento, questa accelerazione nel cambiamento è diventata così rapido che si fa fatica a tenerli dietro e ad adattarsi ad esso. Tanto è vero che le cose cambiano non tra una generazione e l'altra, ma all'interno della stessa generazione. E da questo punto di vista la tecnologia allora fa parte della cultura. La mente umana si esprime in comportamenti, pensieri, parole, ma anche nei prodotti dell'ingegno umano, che sono artefatti tecnologici e artistici. E apprendere dagli altri significa quindi apprendere osservando e usando ciò che è stato prodotto dagli altri, cioè i prodotti della tecnologia. E la tecnologia cambia, come cambia tutta la cultura. Gli artefatti tecnologici di una generazione sono presi come modelli da riprodurre dalla generazione successiva. Ma questa riproduzione è selettiva. Alcuni artefatti vengono riprodotti, vengono tramandati alla generazione successiva. Altri no. Altri diventano obsoleti nel giro anche di pochi anni, di poco tempo. E quindi ogni generazione aggiunge variazioni, innovazioni. E il risultato è il cambiamento tecnologico, che ha acquistato una velocità enorme. Quindi oggi il cambiamento non si misura più in millennio, in secoli, ma in anni o addirittura in mesi. Pensiamo ai computer, che devono essere aggiornati ogni anno. Si è superata la soglia di una generazione, per cui quello che c'era quando eravamo bambini o ragazzi non c'è più quando siamo diventati adulti. Sulla creazione di sempre nuovi bisogni e di nuovi modi per soddisfarli è quella che porta a questa trasformazione contisua. E così quello che vale per il cambiamento tecnologico vale anche per il cambiamento nelle istituzioni sociali e politiche, nei beni e prodotti scambiati, nei comportamenti, nelle idee, nei valori. Oggi il cambiamento avviene in ogni campo ed è molto veloce. Prosegue, procede con una velocità sempre crescente. E se le cose stanno così, la scuola non può che trovarsi in difficoltà. Perché quando il cambiamento è molto veloce, come dicevo, le due funzioni della scuola entrano in contraddizioni una con l'altra. Cioè, se la scuola si preoccupa di trasmettere la cultura, che per definizione è il passato, questo significa che non riesce più a preparare i giovani alla società in cui vivranno da adulti, ma in realtà ormai neppure alla società in cui essi vivono adesso, da giovani. Se invece la scuola cerca di preparare i giovani alla società così come oggi, e come sarà fra dieci e vent'anni, la scuola vede sgretolarsi davanti a sé molta cultura che trasmette da sempre, che non è più moderna, non è più fruibile, in quanto questa cultura non è più in sintonia con la società presente e futura. Da qui il conflitto tra i suoi due compiti. E questo conflitto è un po' la ragione profonda, la causa del malessere della scuola. Questo malessere che sentite da tutti coloro che hanno a che fare con la scuola, gli studenti, gli insegnanti, i genitori, gli studiosi, gli amministratori, i governanti, insomma tutti quelli che si occupano o insomma si confrontano con il problema della scuola. Quindi il malessere della scuola è un malessere che va al di là della scuola. Intanto la realtà oggi è meno comprensibile rispetto a che in passato, e il futuro è anche meno prevedibile, più estraneo, meno governabile. E una delle cause principali è la complessità e quindi la velocità con cui si realizzano i cambiamenti. E questo fa sì che la realtà sia sempre più difficile da interpretare in base agli schemi vecchi appresi nel passato. Sta di fatto che non disponendo più di schemi interpretativi appropriati è inevitabile che la realtà ci sembri poco comprensibile, poco prevedibile, meno controllabile. E questa scarsa comprensibilità produce malessere, a meno che non ci abituiamo a vivere in una realtà poco comprensibile. Allora la scuola cos'è? E' il luogo dove la realtà, quella esterna e sociale, dovrebbe cominciare a diventare comprensibile a chi sta per diventare adulto. E quindi la scuola è quella che dovrebbe fornire i primi grandi schemi interpretativi della realtà. Ma oggi la scuola sa lei per prima, più o meno coscientemente, che non è più in grado di fornire i schemi interpretativi della realtà. Perché i schemi interpretativi che essa è in grado di dare della realtà non sono adatti, non sono più appropriati nemmeno per comprendere la realtà presente. Ed è la scuola che per prima sente questa realtà come incomprensibile. Allora cosa fa la scuola quando questi due compiti, diciamo che sono ad essa strutturali, entrano in conflitto tra di loro? Inevitabilmente sceglie quello della trasmissione e conservazione del sapere e rinuncia all'altro, cioè a preparare i giovani alla società nuova, in cui sono inseriti e che li attenta. Perché la scuola ha un vero e proprio problema con il cambiamento. E in una società in cui tutto cambia velocemente, la scuola non cambia. Che arrivasse nella società attuale provenendo dal passato, troverebbe che tutto è diventato nuovo e diverso, al di fuori che la scuola. La medicina è diversa, il lavoro è diverso, i modi di passare il tempo libero sono diversi, i modi di viaggiare sono diversi. Ma se entrasse in una classe scolastica, troverebbe che quello che succede lì dentro non è molto diverso da quello che succedeva ai suoi tempi. Nella cattedrale di Pistoia c'è la tomba di Cino da Pistoia. C'è un basso rilievo che mostra Cino dietro a una cattedra. Davanti a lui ci sono gli studenti seduti nei loro bani. Questo è ancora quello che sostanzialmente si vede entrando oggi in un'aula scolastica. Allora il problema è che la scuola non cambia in una società che cambia. Se la scuola deve preparare per la società, questo diventa allora un problema molto serio. Per affrontare strutturalmente il problema a scuola, la questione a scuola, bisognerebbe prima di tutto identificare e analizzare con chiarezza quali sono i suoi veri problemi e poi cambiare molto profondamente per risolverli. Riassumendo, la scuola ha due compiti. Trasmettere alle nuove generazioni la cultura del passato e attrezzare i giovani perché essi siano in grado di svolgere la loro parte nella società in cui sono destinati a vivere da adulti. La trasmissione della cultura del passato è necessaria perché questa cultura continua ad esistere, perché si conoscano le proprie radici, insomma. Ma altrettanto importante è preparare i ragazzi a vivere in una società che quando usciranno dalla scuola si inoltrerà per più di mezzo secolo nel futuro. E da questo punto di vista la scuola e il mestiere dell'insegnante sono diversi da ogni altra istituzione e da ogni altro mestiere nella società dato che hanno a che fare non con il presente, con la società come è adesso, ma con il futuro, cioè con la società come sarà nei decenni successivi. La scuola è soprattutto attrezzata per trasmettere e conservare il passato dato che il passato finora ha sempre funzionato e non si è mai posto il problema di seguire il presente e tantomeno di guardare al futuro attrezzandosi per un futuro diverso dal presente. però se il ritmo del cambiamento accelera la scuola è tirata in diverse direzioni e se fa bene una cosa fa male l'altra anzi, le fa male tutte e due. E dato che viene da un passato in cui il primo compito quello di trasmettere e conservare il passato era prevalente la scuola finisce per rinunciare a svolgere il secondo compito quello di attrezzare i giovani a vivere nella società in cui vivranno da adulti. ma oggi la scuola non riesce a far bene neanche più il primo compito perché la società attuale e i ragazzi che ci vivono dentro e sentono la velocità e la profondità del cambiamento semplicemente non ricevono più il passato non se lo fanno più trasmettere non gli serve, gli serve molto meno e allora il problema numero uno della scuola quello vero è quello del cambiamento e per uscire da questo conflitto la scuola dovrebbe essere pronta a cambiare e a cambiare profondamente riesaminando alla radice i suoi compiti e i modi per adempierli e invece la scuola è la sola istituzione della società che non cambia e che anzi ha una particolare resistenza a cambiare e per una istituzione sociale che per assolvere i suoi compiti deve guardare al futuro questo diventa il problema cerchiamo di individuare anche quali sono i contenuti specifici di questo cambiamento cioè cosa deve cambiare nella scuola e come dovrebbe cambiare la scuola per adeguarsi ai tempi quindi quali dovrebbero essere i punti che deve toccare perché ci sia veramente una riforma nei fatti non soltanto a parole non soltanto un riaggiustamento dell'esistente ma un affrontare quello che è uno dei due compiti fondamentali della scuola quindi i problemi principali a cui la scuola deve dare una risposta se vuole tornare ad essere in sincronia con la società dovrebbero essere questi che posto deve avere il computer nella scuola? punto primo punto secondo come deve reagire la scuola all'emersere di una comunicazione visiva capace di competere con quella linguistica perché ormai viviamo in una società dell'immagine tutto diventa immagine immediatamente percepito con quelli che sono i vantaggi e anche gli svantaggi come poter vivere affrontare la comunicazione in una società che comunica fondamentalmente attraverso l'immagine e in maniera molto immediata molto rapida che spesso non dà il tempo di approfondire di analizzare quindi di discriminare il vero dal falso poi quali sono le implicazioni della globalizzazione per la scuola come vivere in un mondo globale si ripercuote nel modo di fare scuola nel modo di stare al mondo quindi nei rapporti che si è costretti a mantenere con chi anche molto lontani ma con i quali c'è una comunicazione rapida con gente, con popoli che vivono molto distanti ma con i quali ci dobbiamo e ci possiamo mettere in comunicazione simultaneamente nel presente poi come deve reagire la scuola all'emersere di una cultura di massa che volenti o nolenti che volenti o nolenti costituisce la realtà la cultura non è più il privilegio di un'elite di un'elite culturale ricca che aveva la sola che aveva accesso alla scuola i mestieri nobili alle professioni insomma no la cultura è diventata una cultura di massa e la scuola non può che adattarsi a un mondo che è adattarsi per trasformarlo ma lo deve comprendere e con questo mondo deve fare i conti e quindi come va cambiato il curriculum scolastico altro problema e altro problema come va cambiato il sistema complessivo delle istituzioni con cui la società educa i suoi membri cioè qual è il posto della scuola nel sistema educativo più globale la scuola è diventata l'unico referente l'unico luogo dove avviene il processo educativo oppure ci sono altri luoghi ci sono altre realtà cioè l'educazione e la formazione non può passare attraverso altre strutture altri luoghi biblioteche luoghi pubblici da casa attraverso il computer attraverso la televisione insomma attraverso tutta una serie di altre strutture che non siano la scuola esperti una scuola aperta che che permetta l'introduzione oppure l'uso di tante forze che sono disponibili per esempio vecchi vecchi professionisti che sono andati in pensione che possono trasmettere il loro sapere vecchi artigiani tutta una serie di persone che possono comunicare che possono interagire che possono fare a loro volta scuola in un contesto più vasto e quindi come si deve o si dovrebbe riadattare il mondo tradizionale degli insegnanti a un sistema complessivo che possa cambiare insomma di cui la scuola in cui la scuola possa inserirsi non sia più l'unica depositaria di un sapere che è un sapere ormai vecchio e per quanto interessante valido di spessore non è più adatto a interpretare i tempi ci sono cose che sono di cui non si può negare l'importanza ma che vengono superate dal presente che diventano obsolete insomma che non che non servono più ecco allora che questi sono i problemi fondamentali che una riforma in questo senso dovrebbe affrontare prima studiando bene la situazione e poi dando risposta a queste domande fondamentali ripetiamole che posto deve avere il computer nella scuola come deve reagire la scuola all'emergere di una comunicazione visiva capace di competere con quella linguistica quali sono le implicazioni della globalizzazione per la scuola come deve reagire la scuola all'emergere della cultura di massa come va cambiato il curriculum scolastico affinché la scuola non sia un diplomificio di diplomi che poi non servono a niente e come va cambiato il sistema complessivo delle istituzioni in cui la scuola educa i suoi membri allora sei domande fondamentali a cui dare una risposta se si vuole attuare una riforma che sia degna di questo nome come invece risponde il politico la politica oggi allora la politica risponde così partire dall'autonomia delle scuole e dei presidi che saranno come allenatori di una squadra e gestiranno l'organico funzionale dei docenti con la scomparsa dal 2016 della figura del supplente comparsa per la prima volta accanto agli scatti di anzianità la comparsa di scatti legati al merito 200 milioni saranno stanziati nel 2016 ogni insegnante avrà 500 euro per le sue spese culturali libri musei musica le scuole potranno ricevere il 5 per mille ma anche uno school bonus poi resteranno gli sgravi alle paritarie ma a precisarenzi solo fino alle medie saranno rafforzate arte musica educazione motoria e l'inglese che dalle elementari dovrà essere insegnato da maestri con padronanza perfetta e poi naturalmente l'intervento più atteso quello per l'assunzione di 100.000 precari delle graduatorie a esaurimento esclusi solo gli idonei dopodiché si entrerà solo per concorso come vediamo il modo di affrontare problemi di pensare a una riforma scolastica è esattamente quello di sempre non prendere assolutamente in considerazione i problemi strutturali della scuola ma quello di dare un ritocco fondamentalmente quasi tutti i provvedimenti sono legati a sistemare più o meno il personale docente così com'è perché abbiamo detto all'inizio del ragionamento che anche quando venissero risolti tutti questi problemi ancora non si sarebbe fatto nulla per portare la scuola fuori della crisi strutturale che sta attraversando e il discorso l'ho sviluppato ma sta di fatto che con questi provvedimenti si tampona come al solito una situazione esistente si sistema un po' di personale nella scuola e si fa passare per riforma qualcosa che riforma non è quindi insomma avanti come sempre cambiamo tutto affinché niente cambi viva la rivoluzione